Benvenuti a Terra Madre, interviste con i maestri del gusto della provincia di Torino. Siamo qui con Riccardo Andreoni, il volto di pastificio Savourè. Complimenti perché siete entrati nella famiglia di maestri del gusto. Grazie. Quali sono le vostre aspettative su questo progetto? Noi siamo appena entrati, quindi per noi è un riconoscimento assolutamente nuovo. Le aspettative sono tante, soprattutto dal punto di vista della collaborazione con altri maestri. Questa è la cosa che ci preme di più. Naturalmente riteniamo che il riconoscimento possa avere una ricaduta positiva anche sugli incassi, però è più l'aspetto legato alla collaborazione. Quindi abbiamo due anni davanti in cui speriamo di fare tante cose. Pastificio Savourè, due sedi in Via Garibaldi e a San Salvario. Un percorso non sempre facile, anche durante il Covid. Insomma, ci siamo tante volte confrontati. Però se tu dovessi riassumere in tre parole il vostro percorso imprenditoriale. Allora, è stato un percorso interessante, lo definirei. Difficile all'inizio, in discesa per un certo periodo, quando siamo cresciuti in maniera esponenziale, fino al Covid. Con il Covid ci siamo fermati, ci sono fermate un po' le nostre ambizioni, che erano quelle di creare una mini catena legata all'eccellenza della pasta fresca nel mondo. Ci siamo fermati e adesso stiamo ripartendo. Quindi direi, una prima fase difficile, una fase sicuramente di forte crescita e adesso c'è una fase di ricrescita. Cioè stiamo riprendendo quel percorso che abbiamo interrotto con il Covid, come tanti come noi. Complimenti Riccardo, benvenuto nella famiglia di Maestre del Gusto. Grazie. E buona terra madre. Grazie mille. Grazie.